Ragazzi, ve l'ho detto, è tutto chiuso stasera. Merda! Charlie, la prendi te la macchina? Oh, si è. E da stamani si beve. Infatti è finito tutto. Ora, no, che si fa stasera? Come si fa? Si va al papion, un passaggio si trova. Ma che è chiusa estate. Che si fa? Siamo nella merda. Ragazzi? Che vuoi? La serata ha sinonato in la perda. La serata ha sinonato in la perda. E da, e da, e da. E da, e da. Cambiami 10 euro. Ehi, posso entrare? A voglia. Diciamo questo, Gene Lem. Da un'altra. Sipiglia bella. Hai già tante fiche? Predici davvero, no? Dai! Di più, di più un altro Negroni!